L'ultimo esposto è stato fatto dal comitato nel luglio del 2021. È una battaglia che ha coinvolto me personalmente e anche il comitato ormai da una vita, diciamo. È dal 2009 che il comitato e io in prima persona lavoro quasi tutti i giorni per i problemi della discarica. C'è soddisfazione da parte del comitato vittime di podere rota dopo la notizia dell'inchiesta della procura fiorentina sulla gestione della discarica che si trova nel comune di Terra Nuova Bracciolini. C'è anche però amarezza, ci dice una delle rappresentanti del comitato, per i tanti anni in cui siamo stati lasciati soli da parte delle istituzioni. È dal 2012 che aspettiamo l'intervento della magistratura sulle problematiche da noi evidenziate per la discarica. Ma problematiche che non è che lo diciamo noi che ci sono questi problemi, lo dicono gli enti di controllo. Ma nonostante tutto è stato dato un ampliamento nel 2011. Noi siamo sempre stati preoccupati per quello che si poteva capire e per quello che non potevamo capire. Però non abbiamo mai mollato. Ed ora l'intervento della magistratura ci fa piacere naturalmente. Penso che sia un atto dovuto con quello che sta emergendo. Le ipotesi di reato sono inquinamento e gestione abusiva di rifiuti tra i cinque indagati. Ci sono anche due rappresentanti delle istituzioni. Il sindaco di Terra Nuova Bracciolini e la dirigente del settore bonifiche della regione toscana. Oggi i cittadini dicono che la discarica va chiusa. Nel 2021 doveva essere l'anno di chiusura. Però è una vittoria amara se fosse una vittoria. Perché comunque questa discarica è qui. I problemi ci sono. Indipendentemente da chi può essere il responsabile. I problemi ci sono. Se le falde sono inquinate o c'è il veleno nelle strade. Indipendentemente dalla responsabilità della discarica del gestore o no. è pericoloso per la salute. Però le istituzioni hanno sempre fatto finta di niente. Non ci hanno mai ascoltato. Sempre lasciati soli. Ora non è che non si canta vittoria. Perché la vittoria ormai non è di nessuno. Noi speriamo che venga fatta luce. E che vengano evidenziate le responsabilità. Ma soprattutto che venga bonificato ciò che c'è da bonificare. E reso l'ambiente vivibile da noi cittadini. E che naturalmente se tutto questo dovesse portare ancora a riportare in auge la procedura di ampliamento prima ancora di sapere questo, credo che sia inaccettabile.